Andiamoci da fare. 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 Ok, che è successo? La moto deve essersi fermata e non l'hai presa benissimo. È come darti torto. Piccole orme di stivali, deve essere lei. E vanno da questa parte. Ok, diamoci da fare. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cosa neve gialla? D'altra parte? D'altra parte non puoi tenerla per sempre. non hai niente di cui preoccuparti qui fuori. Non hai niente di cui preoccuparti qui fuori, eh, Crystal? non hai niente di cui preoccuparti. Eccati. Eccati! Non si muove. Avviciniamoci. Eccati! 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 Ho per looking! Non sto prova sulla terra. Ehi, mi riporti! Fatti vedere! Non vogliamo uscire il male. Siamo qui per cercare di sopravvivere, come te. Perché non vieni qui e ne parliamo? Forza, prendiamolo! Com'è andata? Mi sembra bene. Ce l'ho! Travolgilo! Ehi, tu che ti nascondi! Esci fuori! Abbiamo cibo! Ce l'ho! Trovato! Fuoco! Copremi la ritirata! Sto ripiegando! Capito? Ritirata! Fuoco! 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 Ehi! Fuoco! Grazie. Ecco di qui. Grazie. Ecco di qui. Ok, bene, era l'ultimo. Uno di quei capanni. Ecco di qui. Qui dentro, deve essere qui. Una passeggiata. Ah, continui a frequentare le persone sbagliate. Vai a fare in culo. Ehi, ehi, non ti ricordi di me. Oh, certo che mi ricordo. Sempre in prima linea baciare il culo del colonnello da buon soldatino. Ma porca puttana, lo sai perché sono qui? Scommetto che il colonnello ha messo una taglia su di me. Avanti, fai il tuo dovere. Che cosa aspetti? Che diavolo fai? Ehi, non voglio ucciderti. Sono qui per gli anelli. Quegli anelli sono i miei. Quei bastardi me li avevano rubati. Sono i miei. Sì, sì, certo. Ma puoi scegliere o gli anelli o la vita. Che cosa ne dici? Puoi andare all'inferno! Non c'è di che! Una passeggiata! Puoi andare all'inferno! Puoi andare all'inferno! Puoi andare all'inferno! Grazie. 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 Stai ridotta troppo male. Per carburante. Perfetto. Perfetto. Grazie. No, 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 no. Veselge vicino. Grazie a tutti. 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 Posso aggiustarla? Andiamo. 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 Grazie a tutti. 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 Dove sei finito? Dove sei finito, Heath? Vatti trovare. Posso aggiustarla? Posso aggiustarla? Dovrebbe reggere. Grazie a tutti. 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 Come va? Come va? Grazie a tutti. Si chiara. Paragli. Andiamo a chi è presciuto. Ho ucciso. Uno a terra! Fuoco! Capito! È finita... ...e fangolo. È finita, va un cuore. Ah, c'è l'entito bello! Aspetta, ci siamo. D'accordo! Stavolta ho fatto il pieno di predoni. Ah, Gesù. Sì. Esplosivi. Esplosivi. Mi servono degli esplosivi. Sì. 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 Sì.